Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti al canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su The Last of Us, versione rimasterizzata mi dispiace se stanno uscendo parecchie serie, sto cercando di caricare più video al giorno ecco perché vi consiglio, visto che lo sapete benissimo, che mai le feed non arrivano praticamente mai quasi tutte quante magari ne arrivano un paio al giorno, se mi seguite sempre sui social sapete benissimo quali sono i video che escono sicuramente e trovate quali sono i video, come sapete a tutti, un bel commento, un bel mi piace comunque noi andiamo sempre avanti anche con tutte le serie, lo sapete che una volta superiore un certo numero di video la serie da continuo deve essere proprio un disastro completamente, ma fortunatamente su questo mi assistete sempre e mi volete sempre bene la cosa è reciproca, un po' come diceva Magda, allora vedi che è una cosa reciproca, allora lo sapete che non so dove devo andare penso di qua, andiamo di qua, comunque mi sono armato, penso che possiamo andare di qua si, di qua, di qua, di qua, di qua, ho recuperato tutto, si, anche se perso, vedi 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 poi ci perdiamo le cose, vada qua, mamma mia 25 ne ho becchiati se riuscissi a trovare un banco, che cavolo, questi si mangiano i topi, abbiate a voi ragazzi vai abbiate a voi nel senso erotico ah dicevo io, qual è la tua parte penso che possiamo tra un po' mi scende l'ernia eh bella pensata ok aspetta, vedi una cosa, forse ho capito forse ho capito, guarda vediamo se riesco a metterlo qua sotto forse da qua dovremmo faccia, vediamo un po' perfetto, ok ce la fai entrare? uh zitto che c'è tanta roba anche qua accendiamo la luce sempre per vedere, ecco qua allora, il banco di lavoro c'è e quindi vediamo che cosa possiamo migliorare allora, aspetta, non voglio creare niente scusami, non ho capito perché non mi fai creare non mi fai incazzare, perché ah mi devo espostare soltanto con questo, ok un'arma che questo c'ho parecchi proiettili, lo sapete di questo fucile quindi le velocità di ricarica ce la mettiamo mazza 87 capacità non sarebbe male mirino, aggiungi un mirino all'arma ma si dai, io lo metto così magari speriamo meglio 42 ancora ne tengo proiettili perforanti non lo posso mettere perché penso che non averli questa pure potrebbe essere velocità e capacità velocità di fuoco è meglio, vai così mi potenzio anche un po' questa è una ricarica più veloce questa è un'arma che puoi stiamo utilizzando tu dici? no, infatti ho preso quella volta, scusami vediamo un po' com'è sì premi X per zoomare oh, non è male sto mirino fantastico ok, adesso sono un pochettino più soddisfatto possiamo andare avanti penso che di qua potremmo passare oh, mamma mia, giù, giù eh, ci nascondiamo giornate toste, eh? eh, già non c'è merda, niente cibo credo che dobbiamo stare attenti ma la butto lì, eh oh, cavolo non potevamo fare niente lo so è solo cavolo eh, lo so cerchiamo di arrivare al ponte ok mi sa di sì ok sono pronto andiamo verso il ponte, vai forse però, eh di qua sembra che non ci sia nessuno non so se dobbiamo andarcene no, infatti no scusami se a volte mi acquattisco però fa parte del mestiere qua non c'è niente vai andiamo sopra, eh mi puzza un po' la cosa che non stiamo beccando nessuno qua non c'è niente beh, almeno non si è niente ucciso quei due mazza sicuro che avessero lasciato la città ora dobbiamo solo trovare la fossuta coppia dei piccati ok spero che ci fosse un esercice in quel furgone come cazzo hanno fatto a eliminare l'intera squadra laggiù fai vedere che ok questo l'ho beccato questo ci hanno sentito io pensavo di uscirlo a becc... ah, ma non sei armato io non credo io non credo ok perché sparo da accovacciato? non lo so poi domani ve lo dico allora non c'avevamo il fucile perché mi hai cambiato arma fa niente dai qui c'è le munizioni roba buona ah ma mi hanno anche becchiato wow, fantastico meglio che ci curiamo visto che c'avevamo parecchia roba non ho più paia idea di come mi abbia becchiato però comunque non fa niente ok andiamo di qua vai questa ci sono armi qua no, questa è un paio di cosa allora di qua vediamo se c'è qualcosa che ci può inter... aspetta, aspetta Ellie ecco vedi ma ti hanno fatto male Ellie perché vedo che... ah, c'è la pistola non la voglio buttare però se me la mantieni così la pistola mi fa preoccupare Ellie eh così ci beccano eh vai qua non ci sta niente vediamo se da qua ce ne possiamo andare scendere piano ok, sembra che non ci sia niente di qua sembra di sì facciamo il giro sempre perché non sia mai ci potrebbe essere roba buona mi rallenti però che è successo? scendere così piano c'è l'affanno ok, Ellie c6 ah resti dietro ok, andiamo da qua vai che sembra abbastanza tranquillo ho parlato con la squadra del lato S non hanno visto un cazzo e Marche e Marche aia magari mi faranno uscire però proprio che questi crisi si facciano vedere da qualche parte dovranno uscire questo sarà il tuo giorno affortunato ok è una brutta situazione eh, te lo dico porca di quella misera mi sono scardato allora vediamo di stare attenti qua queste me le becco tutte quante allora il problema è che stanno qui la faccia dal balcone che ci beccano quelli di là e che approccio proviamo ah qua ci sta la bombetta ma se no ce la faccio a passare sotto se ok brava Ellie brava brava così questi qua li abbiamo aggirati hai sentito che li hanno finalmente beccati non è che rimasto solo il tipo e la ragazzina giusto e loro e chiunque fosse su quel piccato ok quindi ci stanno inseguendo che meraviglia la ce ne sta uno ok si è spostato forza controlliamo con i ragazzi in fondo alla strada ok secondo voi quello ce l'ha visto Ellie allora due stanno di là eh non ti muoverelli tanto questo non ci vede non ti preoccupare ok te l'ho detto che non ci vedeva te l'ho detto dai non ti preoccupare non ti preoccupare che sta in mano all'arte qua forse ah c'è quello che sta girato quindi quello ci vede sicuramente è pericolosa come situazione allora facciamo una cosa guarda ok perché potremmo ok dai no 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 prendi ma perché perché non me l'ha lanciato ma che credito dai ma mi devo sempre incazzare vabbè dai vediamo se riesco a beccarli a qualcuno aia uuuu lanciano qui si lanciano ma perché fai sempre stessa cosa un po' veloce un po' veloce non muro eh non muro eh ehli spara spara brava brava stiamo giocando a un uomo male ok arrene 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 l'abbiamo beccato vai non so se sono morti ho lanciato un po' di roba forse ci dovrebbe essere ancora qualcuno eh secondo me che la musica non cambia vediamo se qualcuno attenzione Ellie attenzione che non non so ah ecco ce ne stiamo laggiù nel frattempo direi di fare attenzione ok penso ti ho beccato all'orecchio eh Ellie non ti metti in traiettore brava Ellie brava 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 sei più brava di me penso eh ah abbiamo anche finito i colpi fantastico ok perfetto dai eh credo che ce ne sia ancora qualcun altro non mi pare però voglio fare un attimo un giro perché sei sicuro che ci sta che ci sta c'è qualcuno che ci ha ah ecco ecco stiamo va dentro stanno eh ma perché ti giri completamente vabbè pensa di riuscirlo a fregare ok ok penso che avesse qualcosa addosso eh ogni tanto a volte ok penso che sia morto vero? si ah questa è roba nostra eh oh cavolo ce l'abbiamo fatta si 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 questo ce lo becchiamo questo ce lo becchiamo perché hanno funzionato tanto questa no e questa si ok posso ci ho 20 no distanza non c'è niente eh andiamo avanti no 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 così così ok ah mi devo anche curare fantastico ci curiamo un attimo e vediamo se riusciamo perlomeno a a come sa sta cosa che palle ad onde vamos non lo so perché ho visto che ecco questa è mia scusa mielli però secondo me la sopra voglio vedere eh no la sopra non penso che si potrà salire vabbè il giro ce lo siamo fatti quello è un fantastico mattone che non ci interessa però forse là dentro potrebbe esserci qualcosa che ci aggrada forse però eh non ci sta niente mazzetto che invece ci sta qualcosa eh biglietto chiamo per vedere ok vabbè munizioni munizioni e vedi che a volte la fortuna guarda qua guarda quanta roba c'era proprio destinato che oh Ellie tu in questo momento non puoi capire la grande gioia che stiamo avendo tutto quello che ho beccato qua dentro usa sto coltello va bene eh va da qua sono pieni di roba questi qua dentro sapete che cosa non sto proprio utilizzando le frecce mamma 50 porca miseria le frecce non sto proprio utilizzando però sono difficili perché tira una parabola eh vado un po' in difficoltà vabbè usciamo yes eeeh spingimi lassù se ok ok è un metro guarda ecco va vai prima tu vai prima tu vai vai e vai scusa Mieli ma spostati perché sinceramente che c'è quasi quasi a miseria è lontanissima ok non so non so se qua ci sia qualcosa questo è un cancello non si apre vero sono state in un posto così nella ZQ di Boston si vabbè l'importante è saperlo andiamo di qua questo è un vicolo passiamo dal vicolo passiamo dal vicolo perché che ecco qua è tutto ok solo giù la testa ok 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 che state sempre a due ma a uno erano in un vecchio armadietto militare nell'hotel io e Ruben l'abbiamo trovato per caso ok quella roba è ancora buona quando ne farai ancora attenzione perché secondo te ne voglio un po' ok me lo posso fregare aspetta aspetta me lo posso fregare sono come la scorsa ti ha salvato dal clicker ci penserò su avrei dovuto lasciarti crepare e dai te ne farò un po' se smetti di parlarne sarà meglio che sia buono come dici si ma se ti sposti certo che è buono ok e dai e dai porca e che corri di questa maniera ce l'hai di fronte là non so se l'hai visto speriamo che non venga incontro a noi ok ah si è proprio fermato qua ok anche questo l'abbiamo fregato non so quanti ce ne stanno mi pare due o tre non lo so ok grazie per le munizioni dobbiamo trovare il modo per aggirare il camion ok si e allora ce ne stiamo altro vediamo se riesco a fregarmelo e ma questo sta qua fermo aspetta Ellie scusami proviamo da qua mattone ok vediamo se ce la facciamo ok perfetto allora li ho ammazzati tutti dove dobbiamo andare però perché non so se dobbiamo andare di là o di qua perché il camion lo pensa che ci vede e come il problema è capire dove cavolo andare aspetta tu hai acquattisci di come un topo ma non credo che dobbiamo andare di là io penso che devo attraversare secondo voi ci vede parli no ah però si gira vedi vedi Ellie quindi secondo me non dobbiamo stare nella traiettoria di quando spara ecco vedi non ci ha visto perfetto dai 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 vieni non ci ha visto non si è mai che accorto che gli abbiamo ammazzato tutta la squadra eccolo qua personalmente non so sinceramente come abbia fatto a capire che stavamo qua comunque che ne so ok ok vediamo un po' dove sta quello ma pensa che abbiamo ammazzato anche a quello no ops oh cavolo l'ho becchiato l'ho becchiato aspetta arriva 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 dai dove cavolo arriva aspetta aspetta oh Ellie mi fa perdere un sacco di tempo l'ho già bella il quadro qua allora se a questa arriva lo freddiamo no scusare ma perché là no diciamo però là ci sono le bambine penso di averlo becchiato brava questa arma mi fa impazzire allora attenzione che ecco qua ok il problema è attenzione Ellie vai aia attenzione perfetto ce ne sta un altro là attenzione attenzione ci penso che ce ne sono altri altri tre attenzione sta fermo non so aia aia penso di averlo becchiato no qua siamo coperti siamo coperti qua aspetta aspetta devo solamente non farmi fregare la vita aspetta Ellie sto becchiato eh che palle ok fregare oh sta intratto Ellie sta intratto Ravini ok non ho capito se da qua possiamo andarcene no dobbiamo salire di qua mamma non so neanche se ho fatto la strada giusta ma penso di si eh non credo che ce ne siano altre si strada giusta strada giusta strada giusta vai andiamo sopra andiamo sopra la musica non mi piace il che significa che ci sono ancora altre persone ok oh alcol si eh si anche questa è nostra vediamo mi stavo già spaventando quanta roba abbiamo becchiato tranquilla 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 stiamo calmi stiamo calmi ok non so se ho fatto la direzione giusta comunque vediamo ma penso di si perché stiamo salendo li abbiamo seminati credo di là penso di andare vero ah si ok vai vai però mi guarderei un po' la lampadina la potrei anche io penso che qua succede qualcosa attenzione ok la musica non cambia pare che non ci sia nessuno oh aspetta c'è un libro qua no ok sembra tranquillo eh carteggi no tazza basta sempre carte igieniche che prevede andiamo e mo capito eh camminiamo vicino al muro ok ops è tutto il vostro lo possono vederci speriamo entro zio guarda cazzo cingati joe aspetta aspetta joe fermati guarda lascialo stare calma piccolo stiamo calmi tutto ok non sono i cattivi giù la pistola me la va amico picchi forte stavo cercando di ucciderti già anch'io credevo che fossi uno di loro poi ho visto te non l'avessi notato non girano con i ragazzini sopravvive il più forte perdi sangue non è niente mi chiamo Henry e lui è Sam se ho capito bene tu sei Joel Ellie in quanti siete sono tutti morti non lo sappiamo eravamo un bel po' qualcuno ha avuto la brillante idea di andare in città a cercare provviste gli stronzi ci hanno teso un'imboscata e ci hanno dispersi stiamo cercando di uscire da questa merda possiamo darci una mano anche lui Ellie da roba tipo all'unione fa la forza ha ragione potremmo darci una mano c'è un nascondiglio non lontano da qui meglio continuare a parlare lì ok faccio strada seguitemi scusa per la storia dell'arma non preoccuparti anch'io avrei fatto lo stesso probabilmente da dove vieni? da Hartford ma vuoi fidanzare? ma sentite le due le cose non vanno bene ma anche qua vanno benissimo vabbè ragazzi io penso che questa parte può terminare qui non so se fidarmi o meno perché lui quando ha detto un nascondiglio parlare poi sono sempre pericolosi vabbè naturalmente come se non vi video questo metto i punti su un bel commento un bel mi piace ci vediamo se neanche la prossima video bye ciao